Un'altra notizia positiva per l'aeroporto di Comiso. Dopo il via libera e la gara di appalto per la realizzazione della bratella di collegamento alla statale 514 Ragusa-Catania, arriva la decisione della Commissione europea che dà l'ok all'incentivazione delle rotte. Da Bruxelles arriva infatti l'approvazione alla proposta formulata dall'ex provincia di Raguse, dalla Soaco, per procedere all'incentivazione delle rotte col prelievo di 1.600.000 euro, a valere dei fondi Ex-Insicem. L'idea forza del libero consorzio e della Soaco è stata quella di sostenere che non c'era sovrapposizione di rotte tra Catania e Comiso, perché si tratta di due scale autonomi che hanno valenza diversa per il target di passeggeri che attraggono. Mentre il Piola Torre, infatti, è un aeroporto prevalentemente turistico, Catania è uno scalo della natura più commerciale. La Commissione aveva chiesto di integrare la documentazione con la specifica di dimostrare che i tempi di percorrenza sulla Ragusa-Catania sarebbero stati superiori ad un'ora. Infine ha valutato positivamente le contraddeduzioni e date il via libera. L'operazione, ora ufficiale, non va a configurarsi con l'aiuto di Stato e può dunque passare alla sua fase operativa. Soddisfazione espressa da parte del commissario Dario Cartabellotta che ha sottolineato come arrivata a Raguse il suo primo obiettivo sia stato quello di utilizzare al massimo i fondi Ex-Insicem e di essere riuscito in questo caso a centrare parte della sua mission. Questa è l'occasione per il definitivo cambio di passo per il Piola Torra, hanno dichiarate invece Rosario Di Bernardo e Denzo Taverniti, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Soaco. Per i vertici della società non vi è dubbio sul fatto che questi incentivi si tradurranno in un netto aumento del traffico dello scalo, ossia ricchezza diffusa per il territorio ebleo. Le nuove tratte previste dovrebbero essere cinque a riguardare collegamenti con Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e un paese scandinavo. All'aeroporto di Comiso saranno destinati anche parte dei 20 milioni stanziati per la continuità territoriale da dividere con gli altri aeroporti minori di Pantederi e Lampedusa. I fondi verranno utilizzati per ridurre i prezzi dei biglietti per i residenti in Sicilia che si spostano in Italia e in Europa.